L'ex ministro delle infrastrutture ed ex sindaco di Reggio Emilia Graziano del Rio lunedì prossimo 7 settembre sarà presente ad Alghero in qualità di relatore nella Scuola di Formazione e l'impegno sociale e politico di Alghero dell'associazione maestrale La Forza delle Idee. La scuola, avviata il 26 gennaio e articolata in 13 lezioni tenute da autorevoli docenti, vede 80 iscritti, tra cui molti giovani. E' infatti soprattutto i giovani che si rivolge con la finalità di formare una nuova classe dirigente e cittadini attivi. L'appuntamento di lunedì 7 alle 19.30 nell'area Merenderia del Parco Gianmarco Manca di Maria Pia ha per tema Ripartiamo dalle città, uno sguardo sull'Italia dei diritti e dei valori ed è accessibile a tutti. Si svolgerà all'aperto nel rispetto delle misure anti-covid. Alla lezione parteciperà anche l'ex sindaco di Olbia e sottosegretario di Stato Gian Piero Scano. Nei mesi scorsi la scuola si avvalsa dell'insegnamento da parte di Pietro Bartolo, Gian Mario De Muro, Luca Canessa, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e durante il lockdown in videoconferenza di Vittorio Pelligra, Alessandro Lovari, Gianluca Lioni, Tommaso Nannicini, Luisa Marilotti, Javier Bacchero e Marco Espa. Le prossime elezioni saranno tenute dalla caporedatrice della Nuova Sardegna, Daniela Scano, e dallo scrittore parlamentare e magistrato Gianrico Carofiglio. Infine vi saranno gli stage nei comuni, in regione e al Parlamento europeo a Bruxelles. La scuola di formazione è patrocinata da Fondazione di Sardegna, Anci, Ali e Focus Europe.